E per RKO, dall'altra parte del telefono, Nicola Pignatelli. Ciao Nicola, come stai? Ciao Carlo, sto bene. Tu sei bene? Sì, sì, bene, bene. Pronto a lanciare questo nuovo singolo? Eh, sì. Esatto, perché poi ufficialmente uscirà il videoclip domani, però oggi noi in anteprima facciamo ascoltare il brano di questo pezzo che si chiama La Montagna. Ottimo. La Montagna è un pezzo molto particolare, è una specie di, potrei azzardare questa cosa, un parallelismo anche con la vita. No, però spiegamelo tu. Sì, è un po' un parallelismo con la vita perché dà l'idea dell'attraversamento, del superamento degli ostacoli della vita, insomma, sì, rappresenta un po' questo. E anche, diciamo, anche lo sguardo verso le cose belle della vita, verso le cose che ci affascinano in qualche modo. Quindi in qualche modo è anche un, diciamo, è un immaginare, un tragitto, eh, fatto di cose belle e di cose sofferte per arrivare a ottenere qualcosa di, per se stessi, di importante, ecco. Ecco, rispetto poi... Quindi è un po' questo. Rispetto al, ecco, all'altro singolo a fuoco, eh, devo dire che hai anche, insomma, mantenuto da una parte la coerenza, no, di quello che è il tuo suono, no? Quello, questo sound un po' vintage, ma elettronico, che a me piace molto perché ovviamente prende spunto da una certa new wave. Grazie. Però stai ovviamente creando il suono intorno alla tua, diciamo così, personalità. Sì, direi di sì. Ad esempio l'uso delle tastiere è sempre molto presente, anche perché non sono mai riuscito ad immaginare un mio cantato su basi prettamente rock. Quindi devo mescolare dell'elettronica perché mi risulta più facile probabilmente anche con la metrica, con il modo di cantare che ho deciso di utilizzare, a un certo punto mi sentivo più mio in italiano. E quindi ecco, un po' questo. Quindi diciamo questa costante, sì, l'occhio, il mio occhio è verso quel periodo, ma naturalmente io sono attraversato da tantissime, da tantissima musica di ogni genere. C'è blues. C'è anche del blues, c'è anche una linea, ero partito da una linea blues, in quel periodo stavo ascoltando per dire Lenore Cohen, ma anche i primi Simple Minds, quindi sai, tutto questo ci influenza in qualche modo. Beh, le tastiere dei primi Simple Minds sono fantastiche, a me piacciono molto. Esatto. Allora, senza spoilerare troppo, io so che hai lavorato con Davide Faggiano per il videoclip. Come ci hai lavorato su, senza raccontare esattamente quello che si vedrà? Beh, in realtà eravamo partiti da un'idea piuttosto ambiziosa. Poi abbiamo dovuto insomma lavorare con quello che avevamo. E quindi, però insomma abbiamo utilizzato una bella videocamera a 50 fotogrammi al secondo, quindi fa un effetto molto particolare. In realtà è appunto una specie di attraversamento, in questo caso di un bosco, che porta verso un'immaginaria montagna da superare. E quindi niente, poi ho lasciato fare in realtà molto a Davide, perché devo dire che io preferisco occuparmi della musica per quanto mi interessi appunto la rappresentazione di me. Non volevo comparire molto nel video, alla fine sono comparso solo io in realtà. Però va bene così, nel senso, poi mi piaceva anche che Davide si lasciasse andare su una sua idea che aveva del pezzo che sentiva in quel modo. E quindi va bene così, mi piace, sì. E quindi ecco appunto c'è questo uomo, che sarei io, che attraversa questo bosco e in qualche modo c'è un finale di redenzione, di visione, di visione diciamo luminosa. Ecco, un finale di questo genere. Ecco, io come... Non so se ho reso l'idea. Sì, 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 ma io stavo già pensando, io come gli altri siamo già al lavoro, perché ci piacerebbe vederti dal vivo, fare un live, anche magari adesso vediamo un po' anche per presentare l'album che è in uscita. E sicuramente poi, insomma, lo dico questo, lo dico agli ascoltatori, non ne sentirete parlare. A questo punto, Nicola, noi ci ascoltiamo il disco, il singolo, La Montagna, e ovviamente rilanciamo domani, mi raccomando, tutti quanti, sulle nostre pagine verrà lanciato il videoclip in anteprima del brano. Buon lavoro, a presto. Perfetto. Grazie, a presto.